Ciao a tutti ragazzi, mi conoscete, sapete che faccio video ironici, ma quest'oggi volevo fare un video più serio per parlare della mia esperienza col bullismo. Come sapete è un argomento serio, su cui non ci voglio scherzare, ma vi voglio parlare seriamente di questo argomento. Allora io vi devo ammettere che sono stato vittima del bullismo per, diciamo dall'asilo, fin dall'asilo i miei compagni mi bullizzavano, mi rubavano le macchinine e nessuno mi ruba le macchinine, perché le macchinine sono mie e quindi già da lì partivano i primi bulli, le prime esperienze di bullismo. Poi quando andavo alle mentari pure venivo bullizzato, mi chiamavano brutto polacco e io sono polacco, però non vuol dire che mi potete bullizzare. Poi, alle medie pure venivo bullizzato, soprattutto adesso che sto alle superiori, perché io questo video come sapete lo sto facendo in classe, a ricreazione, anche qua alle superiori mi stanno bullizzando. Però, vi volevo dire, dovete sempre reagire quando siete vittime di bullismo, non vi potete far menare, ma come io che adesso sto lottando contro il bullismo, sto reagendo, adesso nessuno in più mi mena, perché appena vuole menarmi io reagisco e gli do un pugno in faccia. Quindi, io reagisco sempre e sono pronto ad agire. No, 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 lasciami in pace, lasciami in pace, basta, no, no, basta.